e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti quanto tempo che non ci vedevamo ormai si dieci giorni quasi più o meno che non facciamo una live come ai vecchi tempi ma solo flash update so che a qualcuno di voi piacciono anche i flash update perché sono un po come dire brevi più brevi rispetto alle live ma facciamo un po e un po ecco poi anche le live adesso la parte di domande e risposte la faccio sempre all'inizio non la registro quindi se volete partecipare alle domande e risposte venite su twitch come sempre lunedì mercoledì venerdì alle ore 19 circa minuto più minuto meno oggi si parte un po con del verde ok quindi il mood è questo il mood è quello del recuperare un po di terreno dopo il dump degli ultimi giorni guidato soprattutto da una notizia la notizia della vittoria di grayscale contro la sec come sapete grayscale aveva fatto causa di fatto alla sec dicendogli perché lui aveva proposto innanzitutto di convertire il suo etia e scusate il suo trust il grayscale gbtc no grayscale bitcoin trust in un etf spot la sec lo aveva rifiutato grayscale si è incazzato ha detto ti faccio causa perché me lo devi rifiutare i tuoi motivi le tue motivazioni non sono valide e allora oggi ha vinto la causa e questo nonostante non voglia dire che questo verrà trasformato in etf spot attenzione adesso facciamo chiarezza su tutto sicuramente è un enorme passo avanti no e sicuramente mette ancora un po di pressione alla sec che sta prendendo batoste a destra a sinistra ripple sbabam grayscale sbababam ed ecco che appunto insomma gensler è un attimino è un attimino così sotto pressione a proposito se sei qui metti un bel laicozzo sia per dire io c'ero e poi oggi e solo oggi un like significa uno sbebebebam a gary quindi fagli sbababam anche tu inoltre ti faccio una domanda questo è il primo la prima notizia ma poi ragazzi non so se lo sapete ma questa settimana questa in corso è decisiva perché per gli etf spot potrebbe essere decisivo meglio perché ci sono 1 2 3 4 5 6 etf spot che hanno la prima scadenza l'uno il 2 e il 4 che in realtà è nella prossima settimana settembre e tra questi c'è zio blackrock il 2 settembre la sec si pronuncerà o meglio potrà dire lo approvo potrà dire lo posticipo io ti chiedo ti faccio una domandozza a te amico cripto investitore che sei qui in questo momento sia in live che in differita sul tubo secondo te verranno approvati subito o verranno di nuovo posticipati e inoltre ti chiedo alla fine verranno approvati o no cioè l'ultima scadenza è a metà marzo giusto prima dell'alving no come andrà a finire anche vedendo questi risultati no legali che continuano a mettere pressione alla sec ditemi la vostra nei commenti che così ci confrontiamo cosa importantissima il confronto è fondamentale ragazzi quindi tornando a noi tornando a noi dicevamo la vittoria della di grayscale contro la sec in che cosa consiste come vi dicevo la sec aveva rifiutato la proposta di conversione tf spot da trust ai tf spot della sec e allora grayscale si è incazzato gli ha fatto causa dicendo che le sue ragioni non erano valide la corte gli ha dato ragione attenzione potete poi trovare abbiamo scritto anche un articolo a riguardo dove trovate un po tutto quello che è stato detto ve lo vado anche a recuperare e adesso di fatto quello che è accaduto è che era questo la sec quindi non è che è costretta come vi dicevo prima da provare le tf spot di grayscale a convertirlo subito ma può o ritardare di nuovo la decisione oppure concedere la conversione e approvare subito questo entro 45 giorni la canonica scadenza oppure richiedere un appello cioè andare di nuovo per via legali è un po come sta facendo con ripple e dire no ma io volevo dire questo e andarla a tirare per le lunghe e infatti qua c'è un commento molto con cui sono molto d'accordo che visto che comunque la sec ha ricevuto ripetutamente delle batoste sotto il punto di vista legale che hanno sottolineato quando le sue quanto le sue argomentazioni non fossero valide o fossero deboli secondo questo commento il c'andare in appello sarebbe una decisione non furba perché farebbe incazzare la corte ancora di più cioè la corte ti dice una cosa te non ecco ti continui ad appellare sempre dire no ma c'ho ragione io c'ho ragione io e quindi appunto è secondo lui è improbabile io credo adesso sono curioso di vedere appunto potrebbe anche essere che la sec poi cerca di combattere fino in fondo per le sue assurde ragioni ma sicuramente a prescindere da tutto anche se andassi in appello e di nuovo cercasse di fare cioè sta facendo un po la figura del pirla gheri cioè ditemi se ho torto no se mi sto se mi sto sbagliando ma me sembra che stia passando questo messaggio che vuol rompere le scatole a tutti i costi e continua a ricevere delle batoste legali tra altro non non così no da 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 qualche cripto fanatico ma proprio dai tribunali quindi più di così nel senso mi sembra abbastanza già come dire una una sconfitta da un certo punto devi anche dire vabbè basta nel senso io ho detto la mia o mi sarò sbagliato la lascia sta la molla lì un po su approva sti benedetti etf e non rompere le scatole ecco questo è un po il tema e questo sicuramente appunto non c'è il tutto no nella finestra della pre approvazione dell'arrivo no della siamo nell'attesa delle approvazioni di tutti gli etf spot sicuramente è un ulteriore catalizzazione e infatti è quello che il prezzo ha fatto che il prezzo ha scontato proprio oggi dopo il dump dell'ultimo periodo in particolare della settimana scorsa dopo la lateralizzazione vedete a sfondo un po accumulativo se vogliamo perché c'erano queste due shadow che hanno piscato dalla zona di resisti di supporto scusate che è la stessa che ci ha fatto rimbalzare prima infatti prima nella nella fuori onda commentavamo quasi sorridendo no guarda come tutte queste notizie arrivano proprio sul supporto sempre puntuali come le tasse no per non dire qualcosa di ancora più sgradevole se c'è e quindi assurdo proprio come appunto già giusto oggi dopo una settimana di lateralità e pesca all'interno proprio della zona di supporto siamo ripartiti analizzando la price action bisogna fare attenzione insomma un po di cose perché non bisogna come sempre farsi prendere subito dalla fomo per una candela bisogna aspettare la chiusura il follow up adesso vediamo bene tutti i livelli perché sono assolutamente importanti da seguire tra l'altro prima di andare avanti vi dico questa cosa cioè il questo pump c'è stato veramente provvidenziale perché è giusto giusto prima della chiusura mensile e ci potrebbe andare a far chiudere in higher low cioè ci ha evitato il lower low sul mensile immaginatevi se chiudevamo qua era tutto diverso adesso mese non è ancora finito oggi è il 29 agosto a 30 giorni 30 giorni a novembre sì esatto e no 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 esatto ne ha 31 come non detto e quindi vediamo adesso aspettiamo di vedere un po cosa cosa succederà e siamo siamo tutti molto curiosi no di vedere questa chiusura mensile però sicuramente è un ottimo un ottimo segno ecco vediamo vediamo adesso vediamo bene anche la price action vediamo l'open interest che come accennavo prima è cresciuto quindi al di là del semplice liquidare degli short questo movimento a del follow up proprio di di apertura e di posizioni perché abbiamo a fronte di un più 7 per qualcosa di prezzo un più 13 dell'open interest quindi quasi un fattore 2 se adesso non cambia comunque adesso lo andiamo poi anche a rifresciare e andiamo a vedere se sono più long o short che sono stati aperti ma prima di andare a fare questa come si dice questa bellissima analisi io vi dico una cosa vi dico che c'è un altro evento che non vi dovete perdere l'ultimo evento dell'estate penso che è da un po' che non ce n'erano a fine settembre sabato 23 domenica 24 a pescara quindi siamo in abruzzo abbiamo la fantastica blockchain beach e che dire è un paio di giorni sulla spiaggia a pescara dove si guarda dio abbiamo un paio di giornate di speech e alla sera ovviamente c'è la mangiata il beach party e così via e vi dico un segreto non ditelo a nessuno ma forse e dico forse il sottoscritto potrebbe farvi un dj set proprio lì quindi io se fossi in voi non mancherei vedete voi vedete voi io vi condivido il event bright dell'evento e ve lo lascio anche poi in descrizione tac eccolo qua e che dire che dire che dire io vi direi di di esserci non lo so ci ci divertiremo ve lo garantisco io personalmente al di là di tutto poi se anche ritorno un po di verde nel nei grafici tanto meglio ah e ovviamente se avete le nostre magliette indossatele a quel giorno cioè non è che se avete la maglietta cacio e pepe o le magliette insomma quelle del nostro shop non è che venite lì senza non vi venga in mente di venire senza perché poi ci facciamo una fotona di gruppo con tutti quelli che hanno la nostra magliettozza allora ritorniamo poi vi lascio il link anche su youtube ovviamente dell'evento ritorniamo alla price action che è un punto molto importante perché perché stiamo andando ad attaccare un po di resistenze quindi dobbiamo vedere quante ne vinciamo purtroppo l'assorbimento del dump è ancora lontano io vi ricordo che il bull case rimane nell'assorbimento del dump quindi partiamo subito così per evitare delle fomo esagerate e non giustificate piacerebbe anche a me ma è ancora lontano 29.400 è il livello da recuperare per ritornare no è il bull case per ritornare bullish assorbire appunto completamente questo dump quindi per il momento ripeto è là che aspetta nel mentre però avevamo ovviamente questo range che è stato rotto a rialzo e quindi abbiamo un costruttino di bottom sul brevissimo ripeto sul brevissimo l'invalidazione di questo breakout ovviamente diventa il rientro nel range solito solito scenario insomma quando si ha una rottura di un livello l'assorbimento e il rientro diventano il caso di invalidazione nel mentre abbiamo delle resistenze intermedie che possono aiutarci a capire la forza di questo movimento perché più resistenze andiamo a rompere strada facendo il che significa chiuderci delle candele adesso aspettiamo di vedere la chiusura di oggi e il follow up di domani almeno perché questi movimenti molto impulsivi a volte fregano cioè ti fanno credere no che appunto c'è il pump e poi magari in poche ore viene riassorbito tutto quindi aspetti io di solito aspetto almeno due candele giornaliere oggi cioè la candela del movimento è quella del follow up vediamo comunque le resistenze sono 27.200 che è il low mensile come abbiamo detto poco fa se chiudiamo il mensile qua sopra già ci siamo salvati dal come si dice dal lower low che non è male cioè non era bello avere un lower low sul mensile almeno così abbiamo per il momento un higher low con shadow molto lunga tra l'altro guardate il rapporto body shadow di questa candela mensile adesso è presto per farsi delle pippolone mentali sulla candela mensile perché sapete come funziona bitcoin ecco in un giorno ha assorbito tanto così quindi nessuno gli impedisce dopo domani di fare l'opposto quindi non facciamoci pippoloni ma ecco attenzione a quel livello lì soprattutto a fine mese poi abbiamo 28.000 che è invece il nostro high settimanale che nasce da qua guardatelo sul sul time frame settimanale che cosa abbiamo tac questo high al momento vedete che lo abbiamo attaccato lo abbiamo pizzicato oggi ci sta un attimino assorbendo vediamo come come andiamo avanti sicuramente è una resistenza intermedia e poi infine abbiamo l'origine del dump che coincide praticamente anche col precedente high settimanale a 29.300 insomma qua c'è la zona importante se ritorniamo qua sopra ci può volere il tempo che ci vuole non è che deve farlo domani può anche star qui prendersi il suo tempo ritornare un po giù ritornare un po su nel momento in cui va a assorbire lì tac abbiamo la condizione no il bull case è scatenato esattamente da quello prima che ciò accada ahimè siamo ancora in questa struttura che è una struttura di range la struttura attuale rimane sempre quella come dicevamo sul giornaliero dobbiamo arrivare fin lì però per il momento abbiamo un piccolo costrutto di bottom adesso vediamo dove facciamo l'i e dove faremo il low successivo supponendo di fare l'i qui e poi scendiamo un po e andiamo avanti vedete che comunque ecco nel momento in cui facciamo una year low cambiamo struttura anche sul daily quindi è un inizio con target ripeto sempre qua però per andare a recuperare no l'inizio del movimento e l'essere bullish un po su tutti i time frame non c'è molto altro da aggiungere il bear case l'abbiamo detto sarebbe l'assorbimento del movimento rialzista ovviamente anche se dovessimo chiudere oggi sotto alla candela ecco la chiusura del mese in low low comunque non sarebbe una cosa piacevole neanche se il lower low fosse da queste parti quindi sopra al breakout del giornaliero perché comunque c'è già che siamo lì noi diamoci sta bottarella mentre che altro che altro niente questo questo è un po l'analisi no e ovviamente ecco se oggi andiamo ad assorbire in buona parte il movimento a fare una candela che ha più shadow che body chiaramente non è un bel segno a meno che domani proprio non ci sia un bel follow up che recupera il tutto però di solito quando c'è la shadow così non accade anzi di solito poi si fa rivedere l'offerta e ridà una mazzata quindi questa è la situazione il catalyst è stato la vittoria del degree scale contro la sec che secondo molti aumenta notevolmente le probabilità di successo degli etf spot e questo è in fase di pricing da parte del mercato stiamo un po' a vedere quindi le date di approvazione o meno ciò di posticipo degli etf spot che sono quelle che abbiamo visto poco fa quindi 1 e 2 settembre vediamo immagino che il mercato stia apprezzando soprattutto un ritardo no si un po più di probabilità di successo ma non nell'immediato perché altrimenti sicuramente il prezzo sarebbe molto avrebbe reagito molto molto di più insomma provare un etf spot di blackrock su bitcoin direi che quello è il catalyst con la c maiuscola e quindi questa è la situazione inoltre vi dico un'altra questo così è un post motivazionale che però mi piace abbiamo stiamo sopravvivendo al dove eccolo al alla fase più lunga della storia di rendimento negativo anno su anno il che significa valore al giorno x meno valore al giorno x meno un anno e vedete è stato in negativo per più di 500 giorni il più lungo è stato 386 giorni nel 15 16 nel 2019 è stato solo 204 giorni attenzione non è il ribasso del prezzo è la differenza tra il giorno e lo stesso giorno dell'anno precedente quindi questo è il contesto di questo grafico ma la cosa che mi piaceva di più è la frase che dice ti chiameranno ancora fortunato ma in realtà noi c'eravamo ricordatevelo ricordatevi di quello che abbiamo sopportato e vissuto questo è questo è ragazzi questo è che ve lo devo dire non si vede il grafico la parte dove sei tu ma guarda il grafico è questo eccolo tac 500 giorni volumi 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 e volumi oggi sono aumentati non so se hai visto e vitalic dance mix featuring dualib quello è il top signal ritorneremo ricchi ma noi siamo ricchi dentro ragazzi l'importante essere ricchi dentro volumi invertito il trend non ho capito non ho capito porca zozza se è vero il primo che mi dirà sei stato fortunato avrà un cazzotto sicuro sicuro dicono eh ma se l'avessi saputo prima anch'io eh ma tu ma tu sia e invece no bisogna spiegare non non è che c'è c'è la fortuna così a caso no sicuramente pesa però insomma noi abbiamo seguito assai ricchi dentro is the new mamma dice che sono bello no esatto non sono bello ma piaccio per citare il mitico il mitico jerry calà ragazzi vi faccio anche presente una promo di young platform già che ci siamo summer boost così promo di fine estate visto che so che molti di voi lo utilizzano questa è una promo per tutti gli utenti e non solo per i nuovi utenti quindi anche se siete già appunto utilizzatori dell'exchange si tratta di scontistiche fi ridotte degli agevolazioni a tutti gli effetti guardati i vantaggi sono questi con i depositi con carta riceverai sull'applicazione sul sull'exchange un bonus da 5 euro da utilizzare per pagare le commissioni di un deposito con carta quindi di fatto ai 5 euro bonus sulle commissioni di un deposito con carta e i prelievi in euro sono ridotte le commissioni da 1 99 a 0 99 tramite bonifico quindi dimezzate e gli scambi usdt euro vedono anch'esse le commissioni dimezzate quindi al 50 per cento se si hanno già degli sconti sulle commissioni ovviamente non non sono cumulabili oltre almeno 100 per cento non è che vi pagano loro ma si può arrivare anche a una scontistica totale ovviamente gli sconti sulle commissioni ci sono per chi ha i token yng che sono i loro token che oltre una certa soglia si entra nei club che dan diritto a vantaggi tra cui appunto le scondistiche sulle commissioni mentre qua sotto trovate come funziona il bonus per i depositi come dicevamo prima vale per un solo deposito nei giorni della promozione praticamente con un deposito con carta si riceve questo scontistica questo bonus di 5 euro e sul deposito vedete successivo che si fa si riceve questo questo bonus di 5 euro fino ad azzerare anche se sono sufficientemente basse le commissioni ovviamente vengono scontate di un massimo di 5 euro ripeto che questo bonus è per tutti quindi non dovete per forza essere nuovi utenti anche se lo siete già lo potete utilizzare dal 24 agosto quindi da qualche giorno fa ma fino al 7 settembre quindi se vi interessa se siete utenti young platform e vi interessa appunto queste queste scontistiche bonus sappiate che ci sono se non siete utenti young platform e vi interessa utilizzarlo insomma un exchange italiano conosciuto e tutto quanto vi lascio il link solito link in descrizione per avere anche il welcome bonus fino a 25 eurozzi eurozzi che di sicuro non ci fanno schifo non ci fanno schifo ora volevo completare già che c'eravamo l'analisi appunto della price action con i dati sulle liquidazioni visto che ne parlavamo prima che guardate quanto sono basse c'è adesso qua mi bevo dell'acqua ghiacciata perché lo rifrescio anche guardate si commentano da sole quindi questo movimento non è stato alimentato soprattutto da short liquidati no per niente stoppati magari si si vanno ad aggiungere tutto quanto ma guardate confrontandolo ad esempio con le liquidazioni dei long che c'erano state qua cioè questo dump è alimentato soprattutto da long liquidati spazzati via trader spazzati via che erano in leva sovraesposti invece qua abbiamo costruzione di posizioni cioè sono tornati dei long sono entrate delle posizioni adesso andiamo anche a vedere quali e vedete che le liquidazioni giocano un ruolo minore sono stati liquidati più short il quasi il doppio 110 194 sono stati liquidati più short il giorno del dump rispetto a oggi così per farvi capire ok l'open interest è aumentato refresciamo pure per controllare l'andamento degli ultimi minuti ma di fatto è aumentato vedete è in aumento ancora quindi ripeto aperture nette di posizioni più 12 per cento ok a fronte di un più 7 del prezzo andiamo a vedere infine exo charts per vedere un po' le posizioni long e short come sono messe net long e net short vedete che gli short non sono non sono diminuiti più di tanto i long sono aumentati abbastanza la dominanza ancora degli short credo vediamo un po' apriamo zoomiamolo un po' di più sì vedete i long hanno sofferto parecchio durante quest'ultima fase di anche di lateralità e guardate quanti se ne sono spenti e adesso sono riparti oggi sono ripartiti per la prima volta intracandela ci sono tre livelli da tenere d'occhio 27004 27000 e l'area attuale dove ci sono le pance di volume sono le zone a maggior attività stiamo a vedere qua sotto c'è un vuoto fino è stato un po' la zona di breakout dal costruttino di bottom che abbiamo visto questo un po' è squizziamo questi shorts bellissimo bellissimo celsius novità dunque non ho non ho visto non ho guardato le mail non ho idea se ci sono novità ve lo dico sinceramente e volumi in crescita rispetto ai giorni precedenti prima erano in calo si volumi allora i volumi sono beh oggi immagino ecco è sopra la media i giorni scorsi erano immobili perché eravamo in questa zona qua dove non c'era assolutamente del movimento non c'era veramente nulla veramente nulla e io accumulo camminando sono ancora su step di un platform a 100 550 ing grande mi sa che stai veramente bruciando un sacco di calorie accumulando token come non ci fosse un domani e tecno aliscio ragazzi che tecno quasi si va popo bam 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 vedrete nel dj setta pescara e nel mentre gli nft vengono considerati security bravissimo bravissimo mi stavo per perdere mi stavo per perdere questa cosa c'è un'ultima notizia di cui vale la pena parlare ovvero c'è stata dov'è 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 mi sa che è già diventata troppo vecchia e va a parte only fans che ha investito in ethereum non so se avete visto fantastico questo e btf su ethereum che continuano a essere proposti però etf futures mentre 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 non la trovo più perché si è di ieri purtroppo è scesa nelle nella cronologia ma gli nft c'è stata una una causa della sec contro un'azienda che ha emesso nft come forma di raccolta fondi secondo loro e quindi era una security era assimilabile a una security quindi bisogna fare un po' attenzione anche nel mondo degli nft non so come ad esempio se ape o altre no non ne hanno risentito più di tanto ero curioso di vedere se come se non avesse già risentito della vita a sufficienza ma insomma bisogna fare attenzione anche i progetti nft perché anche loro potrebbero essere definiti security amici direi che che questo è quanto questo è quanto questo è quanto dopo tre anni ho trovato una persona che mi ha parlato di bitcoin finalmente si stiamo anche per strada pazzesco pazzesco questo questo è veramente incredibile perché si torna mainstream chi lo sa chi lo sa lo vedremo lo vedremo quando quando ci saranno di nuovo migliaia di spettatori lo potremo vedere nel frattempo qua ragazzi cipini tutti per voi compilate il form io vi invierò il link contenente il riscatto dei cipini per mail per evitare sovraccarichi del database ragazzi sì purtroppo è così non mi ero dimenticato dei cipini di oggi ti avevo fatto una domanda sopra ma vabbè quale quale ti prego rifammela la leggo per ultima e poi vi saluto una signora l'altro giorno al bar stava parlando con un'amica e l'amica dice che cosa sono sti bitcoin fantastico e gliel'ha spiegato poi gli ha spiegato cosa sono topissimo è topissimo secondo te possiamo parlare di primo bear market per gli nft investire oggi al di là del rischio è paragonabile guarda investire in nft a me non ha mai convinto a dire la verità quindi farei molta attenzione perché l'nft secondo me è un qualcosa da non vedere tanto come un investimento ma come un'utilità un qualcosa di di utilizzo ecco luca cosa ne pensi del fatto che i grandi gestori di fondi di investimento blackrock vanguard eccetera stanno accumulando shares delle mining farm quotate e potrebbero così non avere bisogno di acquistare bitcoin ma averli tramite le loro quote e quindi limitare la domanda ma cioè non credo che loro hanno diritto ai bitcoin fisici minati è cioè se loro hanno le quote delle società di mining loro parteciperanno all'utile alle assemblee eventuali ma non è che hanno diritto ai bitcoin fisici cioè non funziona così ecco che io sappia quindi direi di no direi di no non penso che andrebbe impattare sui bitcoin su cioè scusate sul circolante andando a manipolare in qualche modo il discount su gbtc ovviamente si riduce assieme alla crescita delle possibilità di trasformazioni in etf e ovviamente grayscale è contento è contento link cipini rieccolo qua quello che ho incontrato io alla fine era uno che lavora su che banca e beh dai allora sicuramente qualcosa ne sa di bitcoin cioè ne avrà sentito parlare buonasera in live dopo tanto tempo giuro non è per via del dump seguo sempre le repliche bravo bravo amici io con questo vi saluto siamo da mezz'ora in registrazione da un'ora in live luke vogliamo l'asta per i gadget che secondo te mi sono dimenticato ovviamente no ovviamente no ma adesso che siamo tornati dalla vacanza si ritorna sul pezzo su tutto ragazzi si ritorna sul pezzo su tutto vi lascio con questo eccolo qua amici fate i bravi a no vi volevo ricordare anche perché che è l'ultimo giorno questo prima di salutarci per iscrivervi se avete un account su bigate insomma se utilizzate bigate c'è la trading competition anche lì gratuita dove ci sono un sacco di bonus vedete ad esempio c'è questo lucky draw dove si può andare a girare la ruota anzi giriamo la live ragazzi bam vediamo se sono fortunato attenzione 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 grazie non ho vinto una cippa e vai e sarà per la prossima volta comunque niente gratuito partecipare abbiamo creato un team perché la quella di trading spot è basata sui volumi e quindi più siamo e meglio è io aspettate che vi faccio il linkotto invita agli amici dov'è che era questo sarà speriamo io ve lo giro qua se vi interessa tac ok poi ci sono anche altre competizioni sui futures addirittura sul trading demo quindi si può vincere qualcosa anche tradando a caso mi viene da ridere solo a dirlo ragazzi e copy trading di futures scusate e trading di futures qua ci sono tutti i dati avevo scritto anche su telegram poi tutti i dettagli se vi dovesse interessare bene ragazzi con questo io vi ringrazio vi saluto noi ci rivediamo in live forse domani con massi e matte dovremmo essere tornati anche a fare quello e quindi mi raccomando state sempre sul pezzo e stasera all'evento mi raccomando per approfondire la defy amici buona serata e alla prossima